ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più maestro del crimine puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di diabolic colpi e indagini prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store magic merchant dove trovate tante promozioni e offerte per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti diabolic colpi e indagini è un gioco da tavolo competitivo da 2 a 4 giocatori della durata indicativa di 60 a 90 minuti a partita sviluppato dalla dumb things che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video mentre prodotto e distribuito dalla pendragon game studio e infine l'autore è luca maragno in questo gioco ispirato dal celebre fumetto italiano i giocatori si dovranno dividere in due squadre la prima sarà quella dei criminali dove diabolic ed eva dovranno portare a termine i vari colpi della partita mentre nell'altra squadra ovvero quella della polizia jinko e morrigan dovranno far di tutto pur di scoprire diabolic ed eva e dovranno mettergli i bastoni tra le ruote insomma preparatevi una corsa contro il tempo per riuscire a battere i vostri avversari invece per quanto riguarda le meccaniche abbiamo un gioco con movimenti nascosti e deduzione dove i criminali dovranno completare nel minor tempo possibile due colpi su tre mentre la polizia dovrà fare di tutto pur di aumentare il livello del pericolo così da farlo arrivare al massimo vi saranno indagini depistaggi carte con abilità particolari personaggi secondari combattimenti insomma qualsiasi aiuto è ben accetto pur di vincere la partita e voi cosa preferite giocare come poliziotti oppure criminali detto ciò vi ho detto anche troppo e vediamo il tutorial del gioco prepariamo una partita per quattro giocatori per prima cosa posizioniamo il tabellone al centro del tavolo e poi ognuno dei giocatori sceglie un personaggio e del personaggio scelto prende la scheda e lapidina adesso diabolic ed eva prendono i mazzetti delle carte crimine delle carte luogo e li mescolano coperti questi vengono tenuti vicino alla loro area di gioco e inoltre prendono tutti i segnalini criminale e i segnalini per la minimappa infine piazzano la pedina della jaguar sull'apposito box del tabellone adesso tocca a jinko e morrigan che devono per prima cosa mescolare il mazzetto delle carte polizia e questo viene lasciato vicino la loro area di gioco e poi posizionano tutti gli agenti di polizia su questo spazio della centrale di polizia fatto questo posizionano il segnalino pericolo sullo spazio piazzinistra del tracciato pericolo infine nella loro area di gioco mettono tutti i segnalini polizia insieme a quelli dell'indagine fatto ciò formiamo la riserva generale composta dalle carte ferite dal dado combattimento e dalle pedine personaggi secondari adesso diabolic ed eva devono posizionare il loro schermo in modo che sia allineato con la mappa di gioco dunque il nord della minimappa dovrà corrispondere al nord del tabellone ora è il momento di preparare i colpi della partita per la vostra prima partita è consigliato rimuovere il colpo il furgone della civibank poi i restanti colpi vengono mescolati e ne vengono pescati casualmente tre sempre casualmente assegniamo una pedina lettera ad ognuno dei colpi e poi per ognuno di questi viene pescata a caso una carta dal mazzo luogo e viene posizionata coperta sotto la scheda di quel colpo per quanto riguarda diabolic ed eva possono controllare segretamente la posizione dei luoghi di ogni colpo mentre jinko e morrigan dovranno scoprirli tramite gli indizi fatto questo sempre per ogni colpo viene pescata a caso un'altra carta dal mazzo luogo e questa volta viene rivelata la carta andrà a specificare in quale luogo del tabellone si troverà il primo indizio fatto ciò è il momento di posizionare i personaggi dei giocatori per prima cosa si pesca una carta a caso dal mazzo dei luoghi e poi si mette coperta sullo spazio rifugio di diabolic ed eva loro ovviamente possono controllare segretamente la carta mentre jinko e morrigan non potranno vederla infine le pedine di diabolic ed eva vengono posizionate sopra la carta del rifugio questa sarà la loro posizione di partenza all'inizio della partita infine per quanto riguarda le posizioni di morrigan e jinko vengono pescate casualmente due carte dal mazzo luogo e queste indicheranno le posizioni iniziali dove i giocatori dovranno piazzare le loro pedine una volta che tutte le pedine sono state piazzate sia le carte luogo utilizzate per gli indizi e per le posizioni di partenza di jinko e morrigan tornano nel mazzo dei luoghi e questo viene mescolato fatto questo è tutto pronto per iniziare una partita diabolic colpi e indagini si divide in round prima tocca a tutti i personaggi secondari ma questi all'inizio della partita non sono in gioco infatti ve li spiegherò meglio successivamente e poi si passa direttamente all'attivazione dei criminali ovvero dei giocatori che controllano diabolic ed eva i giocatori possono mettersi d'accordo per chi dei due deve agire prima e poi una volta che entrambi avranno svolto il loro turno toccherà alla polizia ovvero i giocatori che controllano morrigan jinko e che hanno schierato in campo i vari agenti di polizia tranquilli più avanti vi spiegherò meglio queste attivazioni facciamo un passo indietro e torniamo alle attivazioni dei criminali in particolare parliamo del turno e delle varie azioni e sappiate che il giocatore attivo può svolgere fino a tre azioni durante il suo turno e queste possono essere svolte nell'ordine che preferisce il giocatore ma al massimo possono essere eseguite una volta per turno giusto una particolare azione sarà un'eccezione per questa regola innanzitutto sappiate che ognuno dei personaggi ha un'abilità speciale che è descritta nella parte superiore della scheda vediamo adesso tutte le azioni e parliamo del movimento essendo un gioco a movimenti nascosti i criminali ovvero diabolic ed eva quando si muovono non piazzano le pedine sulla mappa ma invece utilizzano lo schermo per segnare i movimenti e le carte luogo per decidere dove spostarsi per tracciare i vari movimenti e ricordarsi degli elementi di gioco vi consiglio di utilizzare i segnalini per la mappa ad esempio il rifugio si trova a reddon e buona cosa sarebbe segnarlo con il segnalino apposito conviene fare la stessa cosa con la posizione dei vari luoghi per segnare i vari spostamenti di eva e diabolic e infine per indicare la posizione di personaggi secondari e trappole quando eva e diabolic decidono di muoversi ci sono varie possibilità innanzitutto ognuno dei due personaggi ha il proprio tracciato movimento e in questo tracciato possiamo inserire fino a un massimo di tre carte che sono gli ultimi tre spostamenti su cui la polizia potrà indagare una volta che il personaggio dovrà continuare a muoversi ma tutti e tre gli spazi sono occupati da una carta luogo semplicemente si ricomincia dallo spazio più alto togliendo la carta luogo e mettendo la nuova scelta dal giocatore dunque come potete ben intuire quando il giocatore decide di spostarsi con il proprio personaggio deve prendere la carta luogo in cui si vuole spostare e la deve posizionare coperta sul prossimo spazio del tracciato di quel personaggio ovviamente poi ci piazza la sua pedina e se la carta del luogo dove si vuole spostare si trova già su uno spazio dell'altro personaggio allora semplicemente vi muove sopra la sua pedina se invece il personaggio torna sui suoi passi ovvero si vuole muovere su una carta che è già stata posizionata allora questa insieme alla pedina vengono posizionate sullo spazio successivo se invece il personaggio si muove su una carta luogo che è associata ad un colpo semplicemente sposta la sua pedina sulla carta che è associata a quel colpo la polizia piazzerà un segnalino con il colpo di riferimento in cui si è spostato quel personaggio così da indicare il movimento sul tracciato di quel personaggio ad esempio sul tracciato di diabolic durante il primo movimento si è spostato su uno spazio del tabellone mentre con il secondo si è spostato nel luogo del colpo a a questo punto voi vi chiederete ma mi posso spostare ovunque sulla mappa in realtà no vi sono delle regole che limitano il movimento in base al colore delle strade le viola permettono lo spostamento da una città ad un'altra collegata mentre quelle blu fino a due città collegate ad esempio da brechtal poter arrivare direttamente a reddon e per quanto riguarda le verdi fino a tre città collegate con la stessa strada quindi da cartoon poter arrivare direttamente a shelland mi raccomando la regola più importante è che durante un movimento non potete mai cambiare tipologia di strada le regole del movimento limitato dalle strade valgono sia per la polizia che per i criminali l'unica differenza è che i criminali hanno il movimento nascosto mentre i poliziotti si sposteranno sul tabellone vediamo adesso l'azione pescare scartare o giocare carte e sappiate che questa è l'unica azione che può essere ripetuta più volte durante il proprio turno ognuna delle due fazioni ha il proprio mazzetto e sappiate che si possono ottenere fino a un massimo di 5 carte in mano ad eccezione di diabolic che ne può ottenere 6 e invece quando si vuole giocare una carta dalla propria mano la si rivela a tutti i giocatori e si applica il suo effetto alcune carte rimangono in gioco mentre altre vengono scartate se uno dei mazzi si dovesse esaurire basterà rimescolare tutti gli scarti se due personaggi si trovano nello stesso luogo è possibile scambiare le carte nella propria mano ricordatevi che invece questa azione può essere effettuata una volta per turno e adesso passiamo all'azione fare un'attivazione per quanto riguarda i criminali può essere effettuata solo se questi sono celati quindi non sono stati scoperti e dunque l'attivazione servirà a risolvere le varie parti di un colpo queste vengono risolte in ordine dunque la prima parte poi la seconda e poi la terza e ogni parte ha dei requisiti da rispettare oppure dei costi da pagare ad esempio la parte 2 di questo colpo oltre a una condizione richiede il pagamento delle carte crimine con questi simboli quando una parte di un colpo viene completata bisogna posizionare il gettone così da indicare qual è il personaggio che l'ha risolta una volta fatto ciò si applica la parte della ricompensa che è indicata sulla zona destra della scheda del colpo e dunque con una futura attivazione si potrà risolvere la prossima parte se i giocatori risolvono tutte e tre le parti di un colpo allora questo sarà completato fate attenzione poiché se due colpi su tre vengono interamente completati i criminali vincono la partita tra gli effetti di un colpo ce n'è sicuramente uno di cui bisogna approfondire ovvero l'entrata di un personaggio secondario se sono stati i criminali a fare entrare in gioco il personaggio secondario pescano a caso una carta luogo e l'assegnano a quel personaggio i criminali possono sbirciare in qualsiasi momento la carta associata al personaggio e questa indica la posizione attuale di quella pedina come per i criminali in questo caso la sua posizione sarà celata alla polizia mentre se la polizia a mettere in gioco un personaggio secondario si pesca come al solito una carta luogo da associare al personaggio però questa viene subito scoperta e la pedina del personaggio viene subito piazzata sullo spazio corrispondente del tabellone i personaggi secondari saranno utili per alcuni colpi e per quanto riguarda il loro movimento ne parleremo successivamente quando un poliziotto si trova nello stesso spazio di un segnalino indizio allora può svolgere l'azione fare un'attivazione e per prima cosa controlla la scheda del colpo associata a quell'indizio e poi dovrà risolvere la casella indizio con il numero più basso se quel giocatore riesce a rispettare la condizione e o a pagare i costi vi piazza un proprio segnalino per indicare che ha completato l'indizio poi come al solito si ottiene l'effetto dell'indizio risolto questo simbolo indica che immediatamente bisogna far avanzare verso destra il segnalino pericolo sul tracciato della centrale di polizia e sappiate che alcuni effetti permettono di aumentarlo ancora oppure di diminuirlo questo è importante perché se il livello di pericolo arriva al massimo i poliziotti vincono immediatamente la partita spostiamoci adesso ad un'azione che ha solo la polizia ovvero indagare un luogo il giocatore può indagare solo nel luogo dove attualmente si trova la pedina del suo personaggio se ad esempio ginko decide di indagare su colle verde e la carta è presente su uno dei tracciati allora questa verrà subito rivelata se eva o diabolik si trovavano su quello spazio allora sposteranno la propria pedina sulla zona del tabellone che appena stata indagata da questo momento in poi quel personaggio è in fuga nota importante se l'indagine riguarda una carta luogo che non si trova sui tracciati dei movimenti dei personaggi allora diabolik ed eva non sono costretti a rivelare quella carta tranno ovviamente se la loro pedina si trova in quella posizione una volta che un personaggio è in fuga tutte le carte sul suo tracciato movimento vengono rimesse nel mazzo delle carte luogo quando uno dei criminali è in fuga dovrà effettuare tutti i successivi movimenti direttamente sul tabellone di gioco vediamo adesso l'azione tornare nell'ombra fate attenzione poiché questa azione conta come un movimento e se quindi i giocatori avranno effettuato un movimento non potranno nello stesso turno effettuare l'azione tornare nell'ombra nota se uno dei personaggi in fuga decide di utilizzare la jaguar allora posiziona la sua pedina nel box della jaguar mentre la pedina della macchina viene posizionata sullo spazio dove si trovava con la sua pedina personaggio questa permette di effettuare due movimenti in un turno oppure un movimento più l'azione tornare nell'ombra un personaggio può tornare nell'ombra solo se si trova in un luogo dove non ci sono poliziotti quando torna nell'ombra rimette la jaguar al suo posto e poi dal mazzo delle carte luogo deve scegliere uno spazio collegato rispetto alla sua posizione poi la sua pedina viene tolta dal tabellone e viene piazzata sulla carta che ha scelto se la carta che ha scelto è già in gioco semplicemente vi sposta la sua pedina da questo momento in poi il criminale è celato e si può muovere di nascosto spieghiamo adesso l'azione combattere che può essere eseguita da entrambi gli schieramenti per prima cosa bisogna essere nello stesso luogo e poi colui che ha dichiarato l'azione d'attacco tira il dado del combattimento se è un criminale ogni pugnale è un successo mentre se è un poliziotto allora la pistola varrà come successo se dei personaggi vengono feriti allora questi dovranno aggiungere una carta ferita alla propria mano di carte e questa conterà per il limite di carta in mano che può ottenere quel giocatore se invece è un agente di polizia che viene colpito allora questo tornerà nel suo box nella centrale di polizia ricordatevi che ogni successo fa pescare una carta ferita al proprio avversario curare le ferite è un'altra delle azioni disponibili nel gioco e se l'azione viene effettuata da un criminale si alza di 1 il livello del pericolo mentre nel caso della polizia si abbassa di 1 il livello del pericolo comunque in entrambi i casi si prende una carta ferita dalla propria mano e la si rimette nella riserva generale nota importante se i criminali si curano nel rifugio allora non vi sarà l'aumento del livello di pericolo inoltre sempre nel rifugio si possono prendere le carte crimine dalla pila degli scarti ma questo purtroppo aumenterà di 1 il livello del pericolo ovviamente per quanto riguarda i poliziotti potranno fare la stessa cosa alla centrale di polizia e questa sarà sempre situata a clerville vediamo adesso un'azione che non soltanto i personaggi della polizia ed è mettere in gioco un agente di polizia se nessun agente è ancora in gioco basta scartare una carta polizia dalla propria mano mentre se almeno un agente in gioco bisogna scartarne due quando si effettua quest'azione morrigan potrà prendere gli agenti gialli mentre ginko gli agenti blu gli agenti vengono presi dal box della centrale di polizia e spuntano sul tabellone di gioco nello spazio di clerville a partire dal prossimo turno di quel personaggio il giocatore dovrà prima attivare tutti i suoi agenti e poi il personaggio che sta giocando gli agenti possono effettuare solo una di queste tre azioni ovvero movimento indagare e combattere una volta che tutti i giocatori avranno attivato i personaggi e in particolare dopo che i poliziotti avranno agito inizierà un nuovo round di gioco e si ricomincerà con l'attivazione dei personaggi secondari questi si attivano solo se sono stati rivelati nel tabellone e loro cercheranno il percorso più breve per muoversi sullo spazio indicato sotto al nome della propria pedina ad esempio per quanto riguarda giuliana dovrà raggiungere clemon una volta che l'avrà raggiunta rimarrà lì ferma senza muoversi fatto ciò toccherà ai vari criminali e così continuerà tutta la partita fino a quando uno dei due schieramenti raggiungerà le condizioni di vittoria arriviamo infine alle mie impressioni su diabolic colpi e indagini la storia per cui questo gioco è arrivato sul canale è molto carina poiché all'ultima edizione del play ho beccato casualmente l'autore del gioco e lui mi ha proposto un titolo con movimento nascosto e deduzione davvero molto interessante per chi mi segue da davvero tanto su questo canale sa che io adoro questo genere di giochi e per quanto non sia un amante dell'ambientazione di diabolic comunque devo ammettere di aver apprezzato questo gioco partiamo dal presupposto che vi devono piacere i giochi con movimento nascosto e in particolare la migliore configurazione del gioco è sicuramente due contro due quindi sì avete capito bene è un gioco a squadre e per quanto la scalabilità permetta di giocare in due o tre giocatori devo dire che quelle configurazioni vanno benino ma il top lo dà proprio in quattro giocatori a livello di componentistica grafica e funzionale al gioco e i disegni ispirati direttamente ai fumetti li ho trovati davvero ben riusciti le meccaniche sono quelle piuttosto classiche del genere dove i criminali avranno il loro movimento nascosto mentre la polizia dovrà cercare di capire dove la loro posizione per poterli scoprire sul fronte dei criminali bisognerà giocare molto velocemente per completare due colpi su tre e per poterli completare ci saranno dei costi da pagare o dei requisiti da rispettare mentre per quanto riguarda la polizia sicuramente potrà contare sul numero di agenti perché oltre ai personaggi principali entreranno in gioco i vari agenti e questo significa un maggior numero di attivazioni e quindi azioni insomma sul lungo periodo purtroppo i criminali non ce la possono fare e l'obiettivo della polizia è trovare tutti i sistemi per aumentare il livello di pericolo scoprire luoghi oppure i criminali è sempre una cosa ottima poiché questi inizieranno a muoversi sulla mappa e inoltre li potremo attaccare così da assegnargli le carte ferite queste andranno a rompere le scatole perché conteranno per il limite di carte la nostra mano e le carte sono quello che rende il gioco sempre molto dinamico perché non solo serviranno per pagare i costi dei vari colpi ma anche per attivare i vari effetti e vi assicuro che romperemo molto le scatole al team avversario essendo un gioco due contro due con movimento nascosto è ovvio che l'interazione sia davvero molto alta e per quanto riguarda la rigiocabilità questa è dovuta sicuramente non solo dagli effetti delle carte e anche dal setup dove si mescono a caso i vari colpi ci sono delle varianti più difficili come anche dei colpi più difficili e secondo me il gioco è abbastanza personalizzabile e rigiocabile sul fronte dell'accessibilità non vi spaventate alla fine un peso medio senza nemmeno troppe regole e per quello che mi riguarda nel giro di pochi turni ve lo giocherete senza troppi problemi d'altro canto l'esperienza è un fattore piuttosto importante poiché conosce gli effetti delle carte come funzionano i colpi o semplicemente le azioni di gioco dà un enorme vantaggio rispetto ai novizi sul fronte della durata invece non vi preoccupate perché le prime partite vi potrebbero portare al massimo due ore poi andando belli spediti un'ora e un quarto massimo un'ora e mezza quindi la durata è assolutamente accessibile e infine arriviamo al fattore fortuna questa un po si sente perché comunque la carta pescata al momento giusto sia per il costo sia per l'abilità può dare un enorme boost e dunque se siete tra quei giocatori che cercate giochi completamente controllabili o deterministici io questo gioco ve lo sconsiglio mentre se amate il brivido di pescare la carta o tirare il dado perché sì c'è anche un dado per infliggere le ferite o rimuovere gli agenti di polizia allora lì andate tranquilli infine per quanto riguarda la dipendenza della lingua il gioco è dipendente perché bisogna leggere le abilità sulle carte e anche gli effetti dei colpi insomma per quello che mi riguarda diabolic colpi e indagini è un buon gioco con movimento nascosto e deduzione che sicuramente non griderà il capolavoro però vi dico la verità fa molto bene il suo lavoro un gioco a squadre veloce semplice e con un'ottima interazione tra i giocatori che dire se come me amate questa tipologia di giochi allora io ve lo consiglio detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate di questo gioco l'avete provato vi è piaciuto il tutorial concorrate con la mia recensione sì no boh forse commentate qua sotto vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e un buon halloween a tutti